La Carrarese è costretta a giocare a porte chiusa per problemi di inagibilità e di sicurezza di uno stadio che fino a pochi mesi fa ospitava migliaia di persone tutte le domeniche. Sono stati scoperti dei problemi già conosciuti da oltre un anno e non si è posto rimedio. Il risultato è che oggi una partita importante contro il Novara, come vedete i tifosi devono restare fuori, questo è l'ingresso dello stadio. I tifosi si sono comunque dati appuntamento per provare a incitare a distanza la squadra. Ora entriamo dentro lo stadio, è aperta solo la porticina laterale, possono entrare solo i cronisti e il personale abilitato. Questa è l'immagine surreale dell'antistadio che di solito la domenica a quest'ora è pieno di gente, pieno di persone che aspettano di vedere loro beniamini.